Sì, sono io? Sì, sì, è tutto a posto. E ve lo stavo riportando, è davvero una bella macchina. Sì, sì, stamattina, sì, il tempo di... Sì, esatto, sì, sì. Ok, va bene. Sì, perfetto. Ce l'ho, ce l'ho, l'indirizzo ce l'ho, ok, ok. Va bene, arrivederci. Sì, perfetto. Sì, perfetto. Sì, perfetto. Sì, perfetto. Sì, perfetto. Sì, perfetto. Sì, ma conosci qualcuno qui? Che io ho da consegnare questo, ma non so, io credo che sia qui. Ho parlato col tipo un'ora fa, ma poi non c'è nessuno. Cerchi qualcuno? Cerchi qualcuno? Ho appuntamento. Ah, qui? Mi sa che non è qui, mi sa che è la fermata dopo, dovevi scendere la fermata dopo, oppure due, non so. Per lavoro? Sì, sì, ho capito, però non è qui. Dove? Sì, due fermate dopo, due fermate, ecco, dopo di questa dove sei scesa. Sono in ritardo. Ah. Sì, eh, senti, se vuoi, io ti accompagno alla fermata, ok? Dai, vieni, andiamo la fermata. Non qui. No, 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 dai, vieni. Com'è che ti chiami? Sì, non ho capito. Sì, aspetta. Ah, il cer. Cirillico, legge snake. Sì, ma qua c'è scritto cer. Che vuol dire? Cioè, in italiano sarebbe? Neve. Ah, neve. Ma sei sicura che era? No. Neve. Neve. e anche tu sei qui per l'annuncio no 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 io ho accompagnato lei devo consegnare questo qui infatti mi pareva andiamo e che che lavoro è no così per curiosità quel pc è tuo perché chiedevo no 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 io l'ho solo riparato l'hai solo riparato no ma io chiedevo così tanto tanto per chiedere anche io sì il tizio poi non era in casa perciò senti è stato un piacere se mi serve che mi ripari il pc ti chiamo ok ah vuoi darmi il numero veramente io sto sto a rieti quindi non non importa e allora come non detto beh però oddio se se le serve ma allora non ci siamo capiti dov'è che la porti senti mi hai portato la ragazza e adesso lasciaci in pace ok io ti ho solo chiesto dove andate senti ma tu chi sei la ragazza è maggiorenne se ti sta bene ti sta bene se non ti sta bene ti sta bene uguale è lavoro le sto offrendo un lavoro è chiaro è già tanto difficile trovare un lavoro oggi che vuoi fare ringraziai dio ma figurati tu che lavoro fai ripari i computer beh anche e quanto guadagni quanto guadagno un cazzo mi pare se no non staresti qua in mezzo a questa merda di niente con questo cazzo di tempo di merda o sbaglio vai vai a riparare i tuoi computer e leverti dai coglioni tu non lo porti da nessuna parte ma insomma si può sapere che c'è l'altro vai rotto al cazzo hai capito vaffanculo tu è un scampione vaffanculo stronzo pezzo di merda quindi andiamo andiamo da mia madre come ti dicevo un giorno libero a settimana 700 euro al mese convinto e alloggio oh ma parli di italiani sì beh allora andiamo ciao 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 ciao